Lui è Costel, ha 17 anni, quindi un'unità non indifferente, arriva dalla Romania. In Romania purtroppo i vari proprietari, agricoltori e allevatori, non potendo più mantenere questi animali in quanto in piena crisi economica, hanno optato per l'abbandono in campagna di tutti questi animali. Questo è stato l'inizio della storia di Costel. Costel è arrivato qua e qua si è fatto una nuova vita. Ha trovato la sua coppia, Giulia, col quale è molto legato. Ha un carattere abbastanza forte, diciamo, però se con metodi dolci e gentili si va vicino, lui comunque riesce a essere un asinello veramente dolce. Se Costel vi ha colpito, chiamateci e contattateci al rifugio degli asinelli. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Gli asinelli sono animali poco costosi e facili da gestire, pertanto in Romania tuttora vengono utilizzati per lavori agricoli, per trasportare merci e poi, come spesso accade e è accaduto anche a Costel, abbandonati, lasciati, dimenticati e durante la loro esistenza nessuno si prende cura di quelle che sono le principali necessità di queste creature, per cui la limatura degli zoccoli, piuttosto che la cura della salute, no, nulla. E quindi, amici, vi do subito il numero di telefono per adottare il nostro Costel. Chiamate i 340-8829-165 oppure, come al solito, scrivete a portamiacasa.chiocciola dalla parte deglianimali.it Io ora sono particolare.